Tu hai il hobby, il tempo libero, so che hai un'arancia bellissima, non sono stata ancora lì, dimmi, i tuoi cavalli, galli, i galli sono un regalo della mia famiglia, che bella, sì, questo mi piace tanto, è un hobby, è un hobby che mi piace, sì, mi piace tanto gli animali, essere lì, rimanere lì, devo dirti che questa è l'unica terapia che mi funziona.